Salve bella gente, qui è il vostro Manuel, bentornati! Signori, oggi siamo qui su Raiman Praving Rabbids Siamo qui con il quarto episodio Signori, se vi siete persi il terzo, il secondo e anche il primo episodio Lo trovate sul canale, soprattutto in una playlist, mi raccomando Se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, raga, per supportare questo giocone Che non avete la minima idea Comunque, e anche oggi siamo presi a calci nel sedere Per ora i Rabbids, come potete vedere, stanno cambiando già Già dal quarto episodio i Rabbids sono diversi Questa è una cosa molto particolare Iniziamo subito con la nostra discoteca Si muovono con l'hip hop Let's go! Ciao! 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 ho sbagliato mannaggia me e allora boom spero che questa canzone non sia col copyright ma sicuramente se fosse stata col copyright l'avrò mutata ma non credo allora boom 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 e boom 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 tutto a ritmo di musica tutto a ritmo di musica allora signori forza ok ci siamo mannaggia mancano le ultime due comunque a tema Halloween è bello il teschio in fondo boom è andata bene signori dai adesso usciamo dalla prova e andiamo a vedere i rabbits secondo me sono vedete raga sono diversi dagli ultimi episodi andiamo subito a fare la seconda prova e ci siamo i conigli soffrono di labirintite porta il coniglio alla fine del percorso in meno di 30 secondi senza toccare i bordi oh ok addirittura in meno di 30 secondi fidatevi che sto avendo grandissimi problemi col mouse ok merda ragazzi scusate il silenzio ma mamma mia e anche questa è fatta vabbè la seconda sono le prime sono sempre semplici andiamo a fare le prossime sperando perché ricordo che ce n'è di toste i conigli non hanno i pipistrelli oh merda allora praticamente dobbiamo devo premere un casino di il tasso spazio facciamo una cosa muoviamoci bene o male è semplice ah ecco mi sembrava ma questo è un pipistrello ma stai scherzando boh non ne ho la minima idea comunque forse devo salire qua vediamo se ce la fa Raimann ma sei serio? no l'ha buttato giù allora ci dobbiamo sbrigare raga comunque stavo dicendo a confronto non è nulla delle prossime sfide che più avanti ci sarà sempre una sfida di questa ma sarà ancora più complessa voi vedrete scusate raga la testa gira anche a me ma non è colpa mia sono i comandi che fanno cacare allora o ci sbrighiamo o altrimenti qua che cazzo sono stupido chiedo perdono oh mamma mia mamma mia rega mamma mia sono proprio quei minigame che ti fanno incazzare non avete la minima idea allora ci siamo andiamo qua i conigli non mungono le mucche vabbè e allora tocca a noi forza con il latte devo muovere il mouse più veloce che posso ah vabbè già fatto benissimo signori come potete vedere siamo fortissimi vabbè oggi è andata bene ok ragazzi adesso andiamo ad affrontare l'ultima prova oh hai vinto il costume gott che figo andiamo al piccolo glob let's go e ci siamo oh siamo sul treno rega donno let's go merda merda superman what the fuck cosa sto vedendo ma come prende è andata let's go come prende e dai e forza mamma mia quanto li odio dai ricarica Raiman perfetto occhio let's go e allora forza fatevi sotto mamma mia guardate dov'era mamma mia patta let's go che figo raga addirittura già con la ventosa mi ha buttato ok pian piano il nostro piano va avanti per progredire all'uscita signori io per il momento vi saluto spero che il video vi sia piaciuto è stato sì mi raccomando lasciate un bel like se non siete ancora iscritti iscrivetevi noi ci becchiamo direttamente al prossimo episodio qui la vostra mano di quartiere come al solito è tutto bella